Musica Ben trovati all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo con l'incidente di San Giustino Umbro. È stata aperta l'inchiesta per omicidio stradale e martedì verrà effettuata l'autopsia sul corpo della giovane che era al volante. La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per l'incidente in cui hanno perso la vita Gabriele Marghi, Natascia Baldacci, Nico Dolfi, tutti e tre di 22 anni e residenti a Città di Castello e Luana Ballini, 17, di Monte Santa Maria Tiberina. Omicidio stradale è l'ipotesi di reato ancora contro i gnoti sulla quale il PM Paolo Abritti sta lavorando. I carabinieri della compagnia di Città di Castello sono a lavoro per cercare di capire cosa sia accaduto nella notte tra venerdì e sabato lungo la strada. Secondo una prima parziale ricostruzione pare che l'auto di proprietà dei genitori di Gabriele Marghi, ma condotta dalla fidanzata Natascia Baldacci, sia sbandata subito dopo l'intersezione fra la Tiberina Bis via Umbra con via Mattei. La ruota anteriore destra dell'auto, ormai senza controllo, sembra sia entrata in un canale di raccolta dell'acqua. A questo punto la vettura, scivolando sulla fiancata destra, ha proseguito la corsa fino a sbattere contro il basamento del ponte. Il PM, per cercare di fugare ogni dubbio, ha disposto l'autopsia sul corpo della conducente. L'esame verrà effettuato martedì mattina nell'ospedale di Perugia. Intanto domani, lunedì 5 dicembre, si celebreranno i funerali di Luana e Nico. La funzione religiosa di Luana si terrà nella chiesa di Monte Santa Maria a Tiberina, dove viveva la ragazza alle 14.30. Alle 15 invece, nella chiesa di Rio Secco, quartiere alle porte di Città di Castello, alle 15, si terrà il funerale di Nico Dolfi. Rimaniamo in Valtiberina, colpo in una villa a Caprese Michelangelo nel tardo pomeriggio. I malviventi, probabilmente in due, sono entrati scassinando una finestra al primo piano. Una volta all'interno hanno messo tutto a suo quadro. Infine hanno trovato la cassaforte che hanno aperto, tagliando in due lo sportello con una mola. Hanno preso tutti i valori presenti e si sono gli deliguati. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri di Sansepolcro. Tante le file di auto, tanta gente, alla città del Natale, nonostante il maltempo. Vediamo. La città del Natale richiama fiumi di visitatori e batte la pioggia che caratterizza il fine settimana. Già dal parcheggio di Via Pietri, i turisti, in arrivo da più regioni italiane, si incolonnano ordinati per raggiungere la città, passando dalle scale mobili e il colpo d'occhio è notevole. La fiumana si muove dal prato che ospita le casette con le varie proposte commerciali. A tirare di più è sempre il cibo. Panini e schiacciatine non mancano in chi va a passeggio in cerca di questa o quella meraviglia natalizia. Raggiungere le attrazioni non è semplice e c'è fila ovunque. Un'occhiata dall'alto a Corso Italia dà un'idea del fenomeno. Aggiungiamoci anche la fiera antiquaria che, pur con svariate defezioni, attira il suo pubblico e quanti scelgono l'antiquaria di Arezzo come mercato di lusso per i regali di Natale. Un dato positivo arriva anche dalle prenotazioni degli alberghi, con una copertura che si avvicina al 95% nella due giorni. Insomma, il bilancio è positivo, mentre già si fanno pronostici per il ponte dell'Immacolata e il fine settimana successivo, dove si stimano numeri da record. Gli scatti storici degli archivi alinari sono in mostra a Casa Bruschi. Cento anni di storia raccontati attraverso 56 scatti fotografici degli archivi alinari che tratteggiano un itinerario che attraversa arte, paesaggi e lavoro. È stata inaugurata alla Casa Museo dell'Antiquariato di Ivan Bruschi la mostra dal titolo La sottilità dell'aria, Arezzo e il suo territorio negli archivi alinari. L'esposizione chiude un anno intenso per la Fondazione Ivan Bruschi che il Consiglio di Amministrazione ha voluto dedicare alla celebrazione dei 20 anni dall'apertura della Casa Museo. Il nostro territorio, che aveva un'economia essenzialmente agricola, come gran parte d'Italia, stava iniziando la mutazione verso anche le prime attività industriali. Ci sono delle foto veramente belle, sia delle miniere che delle prime attività industriali nella nostra città. La mostra è curata da Rita Scartoni con la collaborazione di Muriel Prandato oltre a quella della Fondazione Alinari, i cui archivi, divenuti di proprietà pubblica dopo l'acquisto da parte della Regione Toscana, rappresentano uno straordinario patrimonio. Sono 5 milioni di pezzi il patrimonio Alinari ed è così ricco, così straordinario che penso che questo è un modo per far capire come questo patrimonio, che ha un valore mondiale, però ha un legame fortissimo col territorio dove è nato. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 7 maggio. Il personale scolastico dovrà essere formato per somministrare medicinali ai ragazzi affetti da diabete e epilessia. È stata tanta la partecipazione al convegno organizzato dall'Istituto Garibaldi Capolona Subiano con l'Associazione Epilessia Arezzo per conoscere e formare i docenti nell'uso di farmaci a scuola per patologie come epilessia, diabete, per una scuola inclusiva che permetta agli alunni di frequentare le lezioni in classe. È necessario sempre di più formare e informare tutto il personale e quando dico personale penso agli insegnanti ma non solo a loro, anche al personale collaboratore scolastico che sono coloro che quotidianamente vivono a contatto con i bambini e sono chiamati a volte a dover intervenire in situazioni di eventi purtroppo che si verificano all'interno delle nostre classi all'interno dei nostri plessi scolastici e quindi quello che noi vogliamo è cercare di intervenire appunto nella maniera più opportuna sapendo di non essere professionisti nel settore ma sapendo che usare o non usare un determinato protocollo o determinate procedure in modo utile può salvare la vita anche a un bambino. L'epilessia è una patologia che si può curare, il 70% delle persone sono autosufficienti, fanno qualunque tipo di lavoro i ragazzi è vero che sono 44 mila in Italia che hanno l'epilessia però di questi una gran parte fa una vita normalissima e dobbiamo aiutare loro, le famiglie e dobbiamo essere sempre al loro fianco. Noi abbiamo trovato grande soddisfazione a lavorare con i docenti, con i dirigenti scolastici ma anche con tutti gli insegnanti. Abbiamo parlato poco fa della città del Natale ad Arezzo, San Giovanni Valdarno non vuole essere da meno c'è stata l'accensione dell'albero di Natale che ha dato il via a tutti gli eventi natalizi. Con l'accensione dell'albero prendono ufficialmente il via a San Giovanni Valdarno, le iniziative natalizie, un lungomese durante il quale si terranno tantissimi eventi. Sì, siamo veramente molto contenti di tutte le iniziative e siamo riusciti a organizzare proprio da questo pomeriggio fino all'8 di gennaio 2023 e poi tradizionalmente il pomeriggio in cui vengono accese le luminarie, l'albero di Natale, l'inaugurazione della mostra dei presepi. Quest'anno con una particolarissima novità abbiamo anche dei figuranti del presepe che vengono direttamente dal San Regolo e siamo contenti di ospitarli. Speriamo sia l'inizio di una collaborazione importante. Un ringraziamento naturalmente alla Proloco, a tutte le associazioni che hanno collaborato, alla messa a punto di questo ricco cartellone. E siamo con il presidente della Proloco di San Giovanni Valdarno, Massimo Pellegrini. Questo è un momento tradizionale per San Giovanni quando viene acceso l'albero e da qui partono tutte le iniziative con un programma veramente ricco. Sì, è ricchissimo. Io non sto a elencarlo quello che c'è perché è impossibile, però noi da oggi fino al 6 gennaio praticamente tutti i giorni ci sono eventi per grandi e piccini. C'è l'allarme del sindacato del municipale, sempre più incidenti causati dall'uso del cellulare, dall'alcol e dall'alta velocità. Alcol, velocità e cellulare, un mix letale per la sicurezza stradale. Ne è convinto il sindacato di Polizia Municipale di Arezzo, Sulpol, che in una nota del sindacato provinciale Davide Frondaroli non le manda a dire. La politica strumentalizza la polizia locale in campagna elettorale e poi si dimentica tutto subito dopo. Mancano non solo le risorse per il corpo a fronte di incarichi sempre più importanti sul territorio e anche saperle spendere queste risorse. Manca il personale, quel personale spiega a Frondaroli, utile per fare i controlli sulle strade a favore di una maggiore sicurezza stradale. La nota rimarca con evidente fastidio lo stigma appiccicato al vigile di turno intento a multare chi sgarra. Basta dire che si fanno controlli per fare cassa. L'appello colpisce in questo periodo di molti troppi incidenti stradali che vedono protagonisti tanti giovani. L'obiettivo è che arrivi a segno, ovvero alle amministrazioni locali, ma anche al governo centrale. Cambiamo argomento. Lavori su oltre 220 km di corsi d'acqua. Il Consorzio di Bonifica ha illustrato la mappa degli interventi per il 2023. Una parte consistente riguarda il Comune di Arezzo. Lavori del Consorzio di Bonifica sui corsi d'acqua del territorio. La proposta dell'ente integrata con le osservazioni degli amministratori comunali e le segnalazioni dei cittadini nel 2023 prevede lavorazioni su 140 km di corsi d'acqua nel solo Comune di Arezzo. E 220 nell'intera unità idrografica omogenea B, comprendenti i comuni di Arezzo, Subbiano e Capolona. La mappa dei futuri cantieri comprende i tratti annuali. Alcune porzioni del torrente Chiassa, alcuni affluenti dell'Arno, i corsi d'acqua che scorrono nelle zone del Maspino, San Polo e Antria e le case di espansione di Cognaia e del torrente Bicchieraia. I lavori riguarderanno poi i principali rami del bacino idrografico dell'OTA. A sud, su segnalazione del genio civile Valdarno Superiore, la manutenzione riguarderà alcuni torrenti che scaturiscono dal monte di Lignano e che ricadono nelle zone della Valdichiana vicine alla città, come Policiano, Rigutino e Vitiano. Infine, a Palazzo del Pero è in programma la ripetizione delle lavorazioni su alcuni tratti del Cerfone e del Sanchimento. Apriamo ora la pagina politica, scelgo Arezzo, incontro ai cittadini Aretini, domani sera alle 21 al CAS in Via Romana. Pronti via mille giorni alle elezioni, prosegue questa volta dove siete donati? Domani sera, lunedì alle ore 21 al CAS di Via Romana, il CAS a Marco La Sella, ci incontreremo nuovamente con i cittadini della zona e anche coloro che vorranno intervenire, un evento aperto a tutti per parlare del futuro della città, perché mancano meno giorni alle elezioni di quelle che sono trascorse dalle ultime elezioni amministrative. È il tempo di costruire una città diversa, più sostenibile, più vivibile e noi proviamo a dare il nostro contributo. In questi giorni di festa, come vede lei la città? Io credo che in questa città manchi l'autorità amministrativa, cioè le città sentono il bisogno di un'autorità amministrativa presente. Ci sono stati episodi efferrati di criminalità, abbiamo avuto furtico, scasso, le aziende molto importanti, c'è il fenomeno dei baby gang che torna a farsi vedere. C'è stata la paura a un certo punto perché l'illuminazione pubblica si è interrotta per risparmiare, ma i cittadini hanno avuto davvero un senso di smarrimento. Quindi serve una città che forse torni a riflettere un po' di più su quelle che sono le sue priorità. Chi ha detto che manca la guida amministrativa? Perché noi riteniamo che amministrare una città sia prendersi cura ai propri cittadini, sia mettere ordine alle cose che in qualche modo preoccupano in un periodo così difficile e la quotidianità di tutti noi. E quindi l'autorità amministrativa deve essere più presente. Noi notiamo invece che questa amministrazione è ormai latita e noi cerchiamo di farci carico invece ascoltando i nostri concittadini nel tentativo poi di costruire un'alternativa che sia tra un paio di anni la più credibile possibile e quella che risponde di più ai bisogni della nostra comunità. E invece alle stanze ulivieri di Montevarchi, protagonista il Partito Liberale. L'aperitivo liberale è l'iniziativa politica organizzata in occasione dei cento anni dalla nascita del partito e che si è tenuta a Montevarchi presso il circolo Stanze Olivieri. Il Pli, hanno detto i promotori, è portatore di tutti quei principi che hanno radici ben solide che anche oggi ci proiettano verso il futuro e verso una società orientata allo sviluppo, alla crescita, alla libertà, alla democrazia, alla meritocrazia, ad una minore oppressione da parte dello Stato nei confronti di tutti i cittadini. Il nostro scopo è quello appunto di cercare di far riflettere le persone su questi principi in maniera tale che siano maggiormente assimilati, da poter in qualche maniera indirizzare, condizionare il più possibile la politica quotidiana, in maniera tale da rendere la nostra società, la nostra comunità, la nostra nazione un pochino sempre più liberale rispetto a oggi o a ieri. Ci saranno altre iniziative qui sul territorio? Ma intanto annuncio che finalmente, dopo tantissimi anni, penso che se fossero 25 anni che non esisteva più una sezione del PLI ad Arezzo. E grazie a Emiliano verrà rifondata e quindi a breve sbarcheremo con un sacco di iniziative. Vedere rinascere questo partito e dargli una veste che magari possa essere solo anche un punto di riflessione culturale sarebbe importante. E ora ci spostiamo a Cortona. Un pubblico delle grandi occasioni ha partecipato alla conferenza di Magdi Cristiano Allam nella sala Cristal di Piazza Signorelli. Gesù è l'amore del prossimo nel cristianesimo e nell'Islam. Questo è il tema affrontato dallo scrittore. Nello stesso spazio, oggi Massimo Vitali con il libro Il Circolo degli Ex. Durante il recente convegno dal titolo PNRR Borghi e Artigiani insieme per rilanciare l'Italia tenutosi a Castelnuovo d'Avane ed organizzato da Confartigianato Arezzo il sindaco di Cavriglia degli Innocenti ha ricordato gli importanti ed ambiziosi progetti che si concretizzeranno sul territorio. Il convegno organizzato da Confartigianato Arezzo e tenutosi al Museo Mine di Castelnuovo d'Avane ha rappresentato per il Comune di Cavriglia un'opportunità per ricordare i progetti in itinere e che doteranno il territorio, oltre che del ritrovato Renato Borgo di Castelnuovo d'Avane vincitore del finanziamento da 20 milioni di euro del PNRR di altre opere importanti per la comunità. Al centro del convegno c'è questa iniziativa incredibile, strepitosa che è appunto la rinascita di questo luogo, il nostro luogo dell'anima, del cuore, della memoria che rinascerà grazie ai 20 milioni del PNRR che Regione Toscana ci ha assegnato su 42 proposte progettuali diverse. Quindi partiamo da qua ma vogliamo mettere in evidenza la trasformazione di una terra perché in realtà a Cavriglia dal prossimo anno e per i due anni successivi partiranno davvero tanti lavori che interesseranno non solo la comunità e il territorio di Cavriglia ma credo tutto il Valdarno, mi riferisco in particolare a tutta una serie di opere infrastrutturali e quindi alla viabilità di scarto del semaforo del Porcellino, al Parco dello Sport, all'area mineraria che è patrimonio davvero di tutta la comunità del Valdarno. Quindi una bella opportunità per parlare delle prospettive di questo luogo, del Borgo di Castelnuovo d'Avane ma davvero di tanti altri lavori che riguarderanno tutto il Valdarno. Torniamo alla cultura, secondo appuntamento con Dialog, protagonista il critico Franco Boni. Francesco Boni ospite del secondo appuntamento di Dialogs, la rassegna che la Biblioteca Città di Arezzo ha organizzato in collaborazione con due importanti editori. Sì, attraverso Franco Boni, Francesco conosciuto come Franco, che è stato il volto di Telemarket e di altri emittenti tuttora in trasmissione, un personaggio che è stato la compagnia per tanti appassionati, studiosi ed esperti. Il critico d'arte e noto volto televisivo Franco Boni ha presentato la sua ultima autobiografia Adesso parlo io, ripercorrendo la sua vita privata e quella professionale. Ecco, lei con la sua presenza televisiva ha fatto davvero divulgazione dell'arte contemporanea. Questo è stato, diciamo, qualcosa che è capitato o era anche intenzionale? Ma la cosa è capitata, però un'intenzione c'era. Io ho sempre sostenuto che i miei maestri, io ho studiato con lunghi, con causa, con briganti, con seri Loro hanno sempre usato un linguaggio per specialisti. Questo merito penso di averlo acquisito, questa semplificazione del linguaggio che ha fatto sì che l'arte diventasse a disposizione di tutti. E adesso vediamo il restauro degli affreschi al Convitto Nazionale di Arezzo. Ci troviamo all'interno del Refettorio del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo in occasione del restauro, della presentazione dei lavori di restauro ormai concluso di affreschi del XVII e XVIII secolo. Qual è l'importanza di queste opere, Preside? A 410 anni precisi dalla storia del Convitto abbiamo riscoperto un tesoro che, ahimè, era stato ricoperto da tantissimi anni, quasi da 200. Una delle prime cose più importanti che abbiamo deciso di fare, proprio per restituire in occasione di questi 410 anni un tesoro alla cittadinanza, abbiamo investito una somma importante e abbiamo riscoperto un tesoro che è vanto per il Convitto Nazionale ma per tutta la città e per tutta Italia. Qual è l'importanza di questi affreschi e soprattutto il lavoro di restauro è stato impegnativo? È stato decisamente impegnativo perché la condizione era estremamente degradata, parti molto vaste erano cadute e forse per questo anche che erano stati coperti da varie mani di pittura successiva che le aveva completamente occultate. L'importanza è aver scoperto un nuovo tassello per la storia dell'arte di Arezzo. Terminiamo il nostro TG con la notizia del Rotary Club Arezzo Est che ha invitato in città l'alpinista di fama internazionale Marco Comandona per illustrare le sue prodezze e i suoi progetti solidali. Ha portato la montagna in città, lui è Marco Comandona, 12 su 14 vette da 8000 metri scalate senza ossigeno, 3 nell'ultima estate. Arriviamo da un'estate impegnativa avendone fatti ben 3, Nanga Parbat, Broad Peak per me e per anche i miei compagni il K2. Una trilogia molto molto importante, unica al mondo. Ciò non toglie che l'amore per la montagna mi ha dato tante soddisfazioni come scalare 12-8000 ma non solo, aiutare i popoli di montagna. Comandona ha fondato un orfanatrofio a Katmandu con 25 bambini dai 12 ai 17 anni e il Rotary Club Arezzo Est non è rimasto indifferente. Avremo il piacere e l'onore di donare una importante somma a favore di un nuovo progetto che questa associazione sta portando avanti quest'anno volto a dare un'assistenza psicologica proprio a questi bambini che hanno subito questi gravi traumi. Quindi per noi oltre al piacere di avere Marco e vedere le sue gesta c'è un ulteriore piacere e cioè quello di far sì che il nostro club possa essere utile a una nobile causa. Tornando alla montagna, Camandona è chiaro, attenzione al fai da te. Quello che è l'importanza dell'approccio, della conoscenza di quello che uno fa è molto importante. Ovviamente quando uno non si sente in grado di affrontare da determinati obiettivi è giusto darsi in mano a dei professionisti come noi. Con queste belle immagini della neve e della montagna chiudiamo il nostro telegiornale ma diamo uno sguardo alla programmazione di questa sera. Subito dopo di noi torna Domenica Sport. Risultati fatti e personaggi del weekend sportivo conduce Luigi Alberti. La serata proseguirà con la differita dell'incontro di calcio Terra Nuova Traiana San Giovannese derby Valdarnese valido per il tredicesimo turno del campionato di Serie D Girone E. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata.